benvenuto riccardo grazie mille angelo è un piacere essere qua mi sembra di essere tornato indietro nel tempo qui sul tuo canale anche se non ci sono mai stato ma insomma i nostri trascorsi sono datati di qualche anno quindi dai sono contento di essere qua grazie per l'invito mi fa piacere sì in effetti c'era la sensazione da parte mia forse anche tua che ci fosse un dialogo in sospeso perché poi c'erano state delle incomprensioni da ambo le parti che hanno impedito poi di arrivare a un confronto di idee su temi comunque ontologici rilevanti assolutamente assolutamente no mi fa piacere essere qua ecco una cosa che mi piacerebbe appunto sapere è che idee hai maturato sulla realtà e perché cosa ti ha portato poi a aggiungere diciamo a certe conclusioni ammesso tu abbia raggiunto certe conclusioni non stia nel frattempo invece ancora indagando e approfondendo come comunque converrebbe nell'attività filosofica ma allora guarda io questa è una questione molto più che ontologica cioè veramente molto vasta quello che posso dire dovremmo partire da una definizione di realtà ma altrimenti ci impelaghiamo in una questione terminologica che porterebbe via tutta questa oretta quindi cercherò di essere un po un po tranchant su questo e poi vediamo dove ci porta allora io non sono arrivato a conclusioni neanche lontanamente e credo che sia una di quelle questioni in cui è difficile trovare una conclusione perché uno di quei problemi che io ho definito problemi limitati cioè non sono problemi con variabili definite come può essere il mandare in orbita un satellite se devo mandare in orbita un satellite ho una serie di variabili abbastanza definite per quanto molto complesse che però mi permettono di dire ok una volta capito come si fa lo posso replicare e non è che devo più cambiare posso migliorare l'atteggiamento l'approccio ma comunque bene o male una volta che ho capito come funziona la relatività la gravità e l'attrito dell'anive dicendo bene o male riesco a fare come lanciare in area un aquilione è un problema limitato problema della di che cosa è la realtà un problema è il limitato perché ovviamente non ha variabili e ognuno di noi deve partire da zero quando si pone quella questione lì per quanto io possa essere appassionato di spinoza leibniz o severino o tanti altri la mia ricerca di quella che è questa questione sarà partendo da zero e quindi questo è un punto fondamentale quello quello che io ho raggiunto più grazie alla mia esperienza di vita che non grazie ai filosofi del passato che comunque sono stati un contributo essenziale direi che la realtà è tutto ciò che contraddice le mie aspettative cioè noi siamo creature noi siamo produttori di ipotesi cioè noi ci slanciamo verso il mondo come ha perfettamente capito Kant ci slanciamo verso il mondo con un retroterra di concetti e categorie che ci permettono di avere delle aspettative aspettative in senso ontologico cioè delle strutture che cercano di incasellare quella che poi definiamo come realtà e di cui facciamo esperienza la realtà mi si manifesta con tutta la sua brutalità quando rompe le mie categorie quindi quando contraddice le mie aspettative ovvero quando mi dimostra che la struttura essenziale di quella che definiamo qui come realtà non è fatta a misura di quelle mie categorie quindi per me la realtà è ciò che mi contraddice questo ho capito ovviamente questo è molto proteiforme cioè nel senso non è una roba che dico ah posso definirla quindi in un modo univoco proprio perché la realtà secondo me non è fatta a misura della mia mente è una cosa che sta al di fuori della mia mente e che di cui la mia mente è uno dei prodotti con cui riesco a comprendere alcune cose però è quella è la realtà del motivo per cui sono molto appassionato di metodo scientifico perché secondo me il metodo scientifico è il momento in cui l'umanità ha in qualche modo cercato di adottare questa idea capire significa revisionare sempre e questa è la realtà è ciò che ti impone di revisionare ed è il motivo per cui non potrò mai arrivare a una conclusione perché anche a 89 anni se ci arriverò la realtà contraddirà le mie aspettative costruite magari si spera su un bagaglio culturale più ampio e su esperienze più ricche benissimo e magari potrebbe arrivare a contraddisti a tal punto da farti arrivare a delle conclusioni delle conclusioni magari veritiere che magari era quella una delle aspettative che tu stavi escludendo potrebbe rimanere aperta questa opzione questa possibilità indubbiamente la realtà si è una nozione talmente vasta che racchiude tutto praticamente tenendo conto di quello che detto il fatto che la realtà comunque eccede le nostre aspettative della nostra coniezione attuale ti chiedo se non pensi che anche l'idea che noi siamo degli esseri umani che hanno una struttura mentale che percepisce un mondo esterno sia una premessa veritativa oppure una ipotesi cioè se non è possibile pervenire delle conclusioni certe in modo incontrovestibile su che base però lo si sta stabilendo sulla base di quali premesse visto che le premesse come sei benissimo sono la base di una concezione filosofica e ontologica quindi anche della realtà almeno a livello formale qualunque visione del mondo dell'esistenza è basata su delle premesse nessuna concezione del mondo no che intendesse essere almeno plausibile accetterebbe di invertire le premesse tra di loro oppure concatenare in ordine casuale le premesse per per giungere a una conclusione per cui un'indagine filosofica davvero davvero rigorosissima maniacale potremmo dire richiederebbe quello sforzo di andare a valutare anche le premesse di partenza quelle più implicite quelle che più vengono date per ovvio e da questo punto di vista si può mettere in discussione persino che noi siamo degli esseri umani che si trovano in un mondo esterno che stanno percependo attraverso un apparato sensoriale perché vi sono delle ipotesi alternative che potrebbero giustificare ugualmente l'intera nostra esperienza e persino il rapporto tra mente e cervello che potrebbe essere per esempio un tema di discussione di confronto no apporto tra emergentismo tra riduzionismo oppure eh pampsichismo e altre concezioni che eh tendono a superare quella dicotomia del rapporto tra mente corpo e cervello eh quindi siamo d'accordo penso che da un punto di vista formale le premesse sono basilari quindi a seconda delle premesse poi si ti danno le conclusioni eh cosa ti fa credere visto che a me sembra tu comunque adotti l'idea che noi siamo comunque dei corpi eh tra virgolette fisici inseriti in un mondo esterno che eh viene conosciuto attraverso una mente eh cosa te lo fa eh pensare ecco cosa ti fa credere che quel tipo di premesse siano quelle giuste? Allora quando si parla io sono d'accordo sul fatto che tutto ogni visione del mondo si basa su delle premesse e le premesse sono delle ipotesi e qualsiasi tipo di conoscenza nasce dalle ipotesi per quello che dicevo prima perché noi siamo creature ipotetiche il nostro cervello in realtà è un una fuccina di ipotesi eh questo è c'è proprio una uno uno studio scientifico che viene denominato scusa l'attention schema theory cioè il cervello è un produttore di ipotesi noi ogni pensiero ogni impulso elettrochimico che ci attraversa il cranio è l'ipotesi su quello che avverrà di lì al prossimo microsecondo e poi l'incontro con la realtà va a selezionare quelli che sono questi impulsi e in questo momento sto ipotizzando che tu esca dal mio schermo e che mi piglia schiaffoni c'è una parte mio cervello che ipotizza questo c'è una parte mio cervello che ipotizza come adesso schio nella città dove mi trovo scompaglia e al suo posto prenda forma mordor ci sono queste ipotesi che sono basati sempre sulla mia esperienza sui miei archetipi sul mio inconscio via dicendo poi l'esperienza mi porta incontrare quello che al di fuori di quelle ipotesi sta e mi permette di procedere nella mia vita mentale noi siamo quindi produttori di ipotesi in questo senso qualsiasi conoscenza è un'ipotesi che poi viene selezionata dalla realtà cosa che mi porta adottare l'ipotesi secondo cui noi siamo dei corpi fisici inseriti in una realtà e sviluppatisi evolutivamente all'interno di una realtà che è materiale le conseguenze di questa ipotesi perché vedi sappiamo benissimo quando quando noi ci rendiamo conto delle ipotesi di partenza noi abbiamo due modi per valutarle la prima è la veridicità di quelle ipotesi ma è palese che qui c'è un problema il problema è che non abbiamo nessun modo per realizzare un ragionamento che misuri la veridicità della tua ipotesi della mia io non potrò mai portarti una dimostrazione empirica dell'empirismo così come tu non potrai mai portarmi una dimostrazione metafisica della tua visione metafisica questo è uno dei grandi dei grandi impasse del ragionamento umano e questo è uno dei motivi per cui credo che non ci possa essere una vera conclusione perché conclusione significherebbe avere una dimostrazione dell'ipotesi di partenza e questo secondo me non è semplicemente possibile quindi io so perfettamente che c'è un secondo modo per adottare delle ipotesi ed è seguire la catena causale e la catena causale delle ipotesi mi permette di dire ok le conseguenze di queste ipotesi mi permettono di costruire una visione etica politica scientifica più adeguata rispetto all'altra ipotesi ora il motivo per cui io seguo questo ragionamento è perché sono stato fortissimamente influenzato dal pragmatismo anglosassone per william james e tanti altri autori mi hanno fatto capire quanto sia fondamentale considerare il nostro pensiero come un insieme di segni e come quei segni vadano misurati prima sull'effetto che quei segni hanno che non sui presupposti che possono essere anche ontologici metafisici io non mi spingo fino a quello che poi dicono i pragmatisti cioè che bisognerebbe disfarsi dei problemi ontologici metafisici richard rorti dice che problemi quali la verità o dio dovrebbero essere completamente i spunti dal linguaggio filosofico io non sono d'accordo non arrivo fino a lì però arrivo a dire che la mia umiltà perché è un pensiero che rende umile l'approccio dell'essere umano al mondo è un approccio che mi dice ok una volta capito che le mie ipotesi non sono dimostrabili non c'è una possibilità di mostrarti con chiarezza quello che sto presupponendo nella mia costruzione del mondo guardo quali sono le conseguenze e dal mio punto di vista le conseguenze di un approccio empirista materialista se vogliamo ridurre meglio ancora emergentista sono molto preferibili rispetto a un approccio invece metafisico ontologico che definirei quasi insomma di stampo neoplatonico questo è un po quello che io che io credo ed è una risposta incompleta perché ripeto io credo che l'incompletezza sia una delle condizioni inevitabili dell'essere umano e mi sta benissimo così ottimo hai chiarito bene questa tua visione plausibile l'hai esposta davvero in maniera chiara condivisibile ma ti chiedo sempre da un punto di vista sempre formale non è forse vero comunque che questa stessa visione è strutturata secondo delle premesse logicamente concatenate tra loro cioè comunque sta di fatto che è perché tu ritieni che sia più plausibile una concezione materialista per via del dello sviluppo causale degli eventi che riguardano la nostra vita che si debba diciamo riconoscere questa maggior plausibilità di questa visione quindi comunque da un punto di vista formale vi è sempre una necessità logica che sorregge diciamo la struttura di questo pensiero se si rilevasse che però vi è una premessa base che regge tutte le altre senza la quale nessuna potrebbe neanche significare allora da un punto di vista almeno logico si dovrebbe convenire che tutte le visioni della realtà in contrasto con quella stessa premessa da loro implicitamente adottata non possano essere corrette io quando diciamo propongo questo tipo di ragionamento non sto affermando diciamo una forma di intellettualismo astruso o presuppongo che noi siamo appunto degli esseri umani dotati di un intelletto che si rappresenta il mondo e cerca di comprenderlo perché cercherei se mai come in parte avevi già anticipato tu di partire da zero quindi cercare proprio un'impostazione direi urselliana richiamando l'epoche urselliana la riduzione fenomenologica cercando di guardare a ciò che appare con sguardo puro quindi mettendo tra parentesi tutte le ipotesi le premesse che non sono evidenti ecco che non sono veritiere non sono evidenti e cercare quindi di ragionare da zero questo richiede anche di mettere tra parentesi che noi siamo degli esseri umani che hanno un intelletto frutto dell'evoluzione che peraltro creerebbe già un paradosso l'idea che noi stiamo utilizzando uno strumento frutto di un'evoluzione contingente non non certamente predeterminata se volessimo adottare alcuna concezione non non religiosa non si non esatto dove non c'è una predeterminatezza degli eventi allora in quel caso avremo che con un mezzo appunto contingente quale la nostra mente frutto dell'evoluzione staremmo cercando di di interpretare di capire la realtà e quindi ci troveremo già in partenza ad avere una condizione di svantaggio perché appunto saremmo in una condizione tale per cui non sapremo neanche con chiarezza quali sono i limiti della nostra possibilità di capire e di valutare di connettere le premesse tra loro se posso è proprio questo il punto cioè vedi angelo io in passato devo essere sincero era un pezzo che non ascoltavo comunque tuoi video o quando hai partecipato con boldrin durante il periodo pandemico ascoltato qualcosina e io vedi avendo un approccio che alcuni potrebbero anche definire quasi psicologista ok perché io sono stato molto influenzato da jung freud adler soprattutto frankl e tanti altri il mio punto essenziale visto che io ritengo io parto dal presupposto che la vita umana sia irrisolvibile per quel limite che tu hai appena espresso ok cioè noi non siamo risolvibili come problemi o poi magari ci torniamo su questo il punto essenziale è che io quando sento il tuo discorso il pensiero che faccio è quale problema c'è nel considerarsi irrisolti cioè io trovo che lo slancio metafisico di alcuni tuoi discorsi tu sei innamorato di severino e insomma voglio dire è stato un autore che sicuramente ha avuto anche lui questo impatto questo tipo di visione è molto affascinante e io l'ho considerato sempre molto più vicino alla poesia che non alla scienza o la comprensione del mondo e quindi ne ho stima cioè io sono un lettore di poesia io adoro la poesia adoro un certo tipo di spiritualità adoro un certo tipo io sono un lettore della bibbia io l'antico testamento ancora oggi quando è venuto a mancare mio padre il primo testo che mi sono riletto è il libro di job e quindi io sono un grandissimo amante del di quello slancio che è quasi uno slancio titanico io al tuo tentativo io credo che se c'è un modo per definire il tuo sforzo su youtube sia uno sforzo titanico cioè in fin dei conti tu sei uno dei pochi che fa comunque un un lavoro che è sempre molto perdonami uguale a se stesso cioè io negli anni ho visto il tuo discorso evolversi di poco e tu hai sempre insistito tantissimo su alcuni concetti hai fatto centinaia di video su questo concetto che stai esprimendo quindi è uno sforzo titanico letteralmente trovo che questo sforzo titanico però c'è lì qualche modo non lo attribuisco a te ma lo attribuisco a questo tipo di pensiero la paura di scoprirci incompleti cioè tu mi dici giustamente noi abbiamo il mezzo della logica la logica che dovrebbe permetterci di conchiudere in una comprensione l'esperienza il mondo e i fenomeni e io ti dico secondo me il punto è accettare il fatto che anche la logica è un uno strumento che si è sviluppato in un ambito ben delimitato dell'esperienza universale che è quello della terra e voglio dire c'è quel bellissimo discorso che michel foucault tenne al collège de france quando prese la cattedra lui disse disse dobbiamo fare pace con l'evidenza secondo cui l'universo non è a immagine della nostra mente che è il grande pregiudizio razionalista attenzione che ci ha permesso di fare delle cose straordinarie senza quel pregiudizio è probabile che non avremmo mai avuto il metodo scientifico perché il metodo scientifico per secoli si è basato sull'idea che la nostra mente sia frattale dell'universo ovvero che la struttura universale in qualche modo è ricalcata anzi no la nostra mente in qualche modo è ricalco di quella struttura universale il problema è che questo è un presupposto abnorme che in alcuni ambiti dal mio punto di vista cela il terrore di scoprirci alieni rispetto al cosmo e io nella mia vita e anche di nuovo l'esperienza mi ha portato a questo mi sono accorto che tantissime esperienze anche quotidiane che noi facciamo non sono immagini e somiglianza della nostra logica e l'esperienza della morte è per me l'emblema perfetto di questo e ciò che mi ha fatto dire una volta per tutte la realtà esiste è stronza sull'altra mila francese e contraddice il mio modo di approcciarmi ad essa approcciarmi al mondo e io mi sveglio in qualche modo ogni volta che qualcosa contraddice quella logica quella struttura e io trovo che fare pace con la nostra incompiutezza sia un'esperienza ancora tanto titanica quanto quella che porti avanti tu cosa voglio sono segnato dallo stoicismo lo stoicismo di epiteto arrenditi al fatto che tu sei limitato nella tua esperienza il che significa non che sei una roba che non ha importanza significa che sei che devi trovare i tuoi limiti e secondo me questo è molto importante certo i limiti poi possono valorizzare un individuo visto che lo determinano lo determinano appunto il problema che io cerco di comunque portare avanti è di tenere a mente la condizione originaria della filosofia che parte proprio da quel tentativo di voler comprendere le cose senza diciamo viziare chiamiamo chiamiamo la indagine filosofica tale indagine con delle delle premesse che possono essere ipotetiche allora chiaramente ogni visione del mondo parte dalle premesse anche la la filosofia di severino parte da delle premesse impossibile non partire da dei presupposti e quello che però è problematico poi è lasciare quelle premesse come appese nella loro ipoteticità e da quelle però poi desumere dedurre conseguenze come se invece avessero un carattere veritativo io quando prima dicevo che la logica nel discorso che tu hai portato avanti allora avrebbe quel carattere limitato non volevo appunto dire che nel mio discorso invece io presuppongo che noi siamo esseri umani dotati di una logica no perché anche questo andrebbe verificato tutto diresti ma impossibile non si possono verificare addirittura i presupposti empiristi però ci potrebbe essere un modo per verificare comunque da un punto di vista almeno logico che non è poco quel tipo di premesse e allora vorrei far notare che c'è una premessa che sta alla base di tutte che se non fosse vera non permetterebbe neppure nel caso in cui ci trovassimo nella realtà da te prospettata la possibilità di averne esperienza e cioè una cosa che può sembrare banalissima ma che invece permette poi di assumere qualcosa di straordinario e cioè che ogni aspetto della realtà e ciò che ogni aspetto dell'esistenza è determinatamente quel che è il che non vuol dire negare l'infinita varietà di sfumature dell'esistenza ma significa riconoscere che tutte quelle infinite sfumature sono determinatamente un che di essente che non è altro da ciò che è sicuramente saprai delle illusioni cognitive sembrerebbero proprio smentire questa osservazione nella percezione per esempio prendiamo anche la fenomenologia di merleoponti sembra che ci siano dei dei contorni indeterminati nella cosiddetta percezione che sembrerebbero proprio confermare che a livello ontologico non solo nella nostra percezione ma proprio nel nel mondo che ci appare ci siano dei contorni sfumati quindi che non siano effettivamente essenti per come prospettato prima eppure in quel tipo di idea si presuppone il divenire cioè si presuppone che la realtà non sia un insieme di configurazioni eterne eterne in modo atemporale non non sempre eterne perché faccio faccio questo esempio in una illusione cognitiva percettiva in cui ad esempio si vede che ne so una figura interpretata come vaso e poi la si vede in un secondo momento assume invece le sembianze di un volto umano non è che veramente la percezione si sia modificata quella è un'interpretazione perché cos'è che davvero è apparso fenomenologicamente in quel tipo di evento ma è apparsa prima una configurazione con determinate forme sensibili accompagnate dalla cognizione che quelle che quei segni grafici visivi significassero l'essere un vaso successivamente è apparsa un altro tipo di configurazione o altre configurazioni con una cognizione differente c'è un altro esempio simile quello adesso non ricordo bene precisamente diciamo i dettagli ma non so se hai mai visto quel tipo di barra grigia con uno sfondo nero che se invece è accompagnata da un altro sfondo la stessa sbarra la stessa barra sembra avere delle sfumature di grigio diverse certo certo se sia presente in realtà è un'interpretazione che quella sia sempre la stessa barra perché un'interpretazione è che l'immagine che noi vediamo dietro un certo sfondo sia sempre la stessa con uno sfondo poi modificato in seguito in realtà se ci fermassimo all'esperienza immediata noi dovremmo semplicemente attestare che quelle sono due configurazioni diverse e che la realtà sia sempre una specie di sostrato permanente dietro le sue variazioni quindi dietro il variare delle determinazioni quella è un'ipotesi che che sorregge tutta quell'impalcatura diciamo dell'idea che le cose siano indeterminate in certe occasioni in modo intrinseco intendo per cui direi quella premessa che ogni aspetto della realtà e ciò che è che più in generale non voglio essere troppo pedante fa capo alla differenza ontologica e semantica tra essere e non essere quindi tra il positivo e negativo è richiesta implicitamente in ogni dire quindi anche nel dire che vuole negare questa struttura perché anche il dire che vuole negarla per significare deve escludere di essere equivalente alla propria stessa negazione quindi deve già utilizzare il presupposto che le cose e i significati sono ciò che sono e non altro perché su questa base che puoi proseguire tutto il resto ora se siamo d'accordo su questo ovviamente si potrebbe anche dissentire però poi bisognerebbe giustificare come il proprio dissenso si tiri fuori da questa struttura base se da questa premessa seguono delle conclusioni che ahimè severino io nomino lui perché le hanno millate lui ma io in realtà seguo la struttura che lui ha indicato la cosiddetta struttura originaria se da quella premessa segue una forma radicale di eternismo e le altre posizioni tutte le altre sono comunque affette da da una contraddizione chiamiamola così che è il divenire in diverse forme e la contraddizione decreta la falsità di una teoria allora non dovrebbe seguire che insomma la visione del mondo affetta da questa condizione autonegante si non può essere corretta e quindi non può essere neanche vero quindi io direi è plausibile la visione che tu hai portato e probabilmente nel tempo se non avessi se non fossi approdato anche alla filosofia di severino può darsi che avrei messo più in discussione un certo tipo di idealismo io non sono mai stato vicino all'idealismo tedesco per esempio non mi ha mai catturato hegel ficht schelling e più berkeley ho presente ho presente sì 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 perché tra l'altro una componente empirista non a caso parte dall'empirismo dall'osservazione diretta perché l'evidenza è innegabile l'evidenza è il terreno comune che che sta anche a fondamento del pro discorso perché il metodo scientifico richiede l'evidenza se non c'è un osservazione però il problema è che la stessa evidenza fenomenologica al di fuori di una struttura come quella originaria risulta essere un po una fede cioè è una fede che l'evidenza fenomenologica sia veritiera se non sia una base che possa giustificare quella evidenza ma io questo non lo non lo nego assolutamente io in tantissimi i miei video ma anche nei miei libri ho scritto che in realtà tu devi basarti su dei presupposti che ricalcano moltissimo il concetto di fede io sono una persona atea eppure lo studio di quei limiti di cui parlavo prima mi ha portato a capire che tu aderisci a dei valori aderisci a dei presupposti aderisci a dei pensieri a cui semplicemente devi credere e fin tanto che la tua esistenza cognitiva ti permette di non essere contraddetto in modo veramente palese in quelle evidenze in quei scusatemi in quei concetti a cui affidi la tua fede scusatemi il gioco di parole allora puoi costruire un modello più o meno coerente del mondo sempre ricordandoti però che hai avuto un presupposto di fede ora in quello che tu hai detto angelo io ce lo vedo un presupposto di fede e infatti è il motivo per cui io quando ho letto severino sono rimasto sempre con la sensazione di avere una costruzione che vuole raccontarsi come perfettamente coerente ma che poi in realtà in realtà in realtà è limitata come qualsiasi sistema è limitato e questo viene dal mio punto di vista se vogliamo proprio fare un un excursus filosofico nel novecento viene perfettamente descritto da quello che è il il l'esperimento del brain in a vet di di come si chiama patnam esatto esatto perché io ho sempre trovato molto anche quello è stato un autore che mi ha dato tanto nell'ambito della mia costruzione di questa concezione che all'inizio era puramente pragmatista e poi sia un po ammorbidita nel pragmatismo perché quello che dice patnam secondo me è molto intelligente quando lui dice perché non possiamo presupporre di essere cervelli nella vasca perché in realtà se noi presupponessimo questo dovremmo anche pensare che ciò che al di fuori della proiezione olografica e noi sappiamo insomma viene introitato nel nostro cervello viene chiamato cervello e vasca corrisponderebbe a un'immagine mentale che io mi porto dietro del livello precedente e questo è palesemente un salto che non è soltanto un salto di fede in realtà sarebbe una coincidenza stellare è il motivo per cui io ho sempre visto matrix cioè pensaci un secondo matrix ok visto che matrix è un po la traduzione cinematografica del cervello nella vasca di patnam e visto che a me piace tanto parlare di cultura pop cos'è che non sta in piedi in matrix che se delle macchine dovessero usarci come batterie sicuramente all'interno del mondo di matrix avrebbero tutto l'interesse a creare un sistema di rappresentazioni totalmente alieno rispetto al sistema di rappresentazioni del livello precedente non ha alcun senso per esempio il fatto che esista il teatro nel mondo reale e nel mondo di matrix non ha alcun senso che ci siano queste cose qua e questa è la grande intuizione di patnam e allora gli arrivo a severino quando tu mi dici la rappresentazione del del vaso e del volto io ti dico è vero all'interno di un sistema che non abbia quei diversi livelli perché io sono così appassionato di autori come per esempio lovecraft ok perché lovecraft per me è stato molto importante nella mia formazione filosofica prima che letteraria perché lovecraft a differenza di severino si è fermato e ha detto il mio sistema cognitivo e interpretativo so che funziona all'interno di un di un ambiente lasciami passare il termine che è una sorta di zona di comfort cioè dove la nostra mente si è evoluta dove la geometria euclidea trova le sue giuste misure noi abbiamo avuto la capacità di costruire un'immagine della realtà che bene o male funziona ma guarda caso nel novecento abbiamo cominciato a vedere alcune cose in cui appena tu esci da quella zona di comfort e ti tocca rivedere enormemente l'idea che le tue intuizioni la tua logica la tua il tuo sistema rappresentativo abbiano un qualche legame diretto con le misure macroscopiche o microscopiche e quindi lovecraft comincia a dire ma scusami e se questo fosse un livello oltre qui ci sono dei livelli che non hanno un legame di comunicazione e allora lì ecco qual è la prudenza che in realtà va già intuito e pitteto e seneca la prudenza di dire io so che il mio sistema interpretativo funziona al livello che ha la misura di me stesso ma so che il mondo è molto più ampio di questo e devo in qualche modo presupporre di nuovo presupporre che ci sia tutto un sistema tutto un fuori di cui in questo periodo storico abbiamo anche qualche evidenza insomma di nuovo se vogliamo entrare nella meccanica quantistica vi dicendo sono cose che contraddicono enormemente le nostre intuizioni logiche via dicendo c'è tutto un sistema che in realtà contraddice quel tipo di livello cioè ti lascio con ti lascio questo con una metafora e poi ti lascio rispondere c'è un romanzo che io amo molto che si intitola la voce del padrone di stanis lavlem che è l'autore di solaris in questo romanzo la trama fondamentalmente è abbastanza semplice è la ricostruzione dello studio dello studio di ricerca voce del padrone in cui si cercava di interpretare il primo segnale artificiale proveniente dallo spazio molto bello come romanzo a un certo punto il protagonista che è uno scienziato dice attenzione noi dobbiamo la scienza ci ha insegnato che dobbiamo presupporre di essere sempre come le formiche che riescono ad arrivare sul cadavere del filosofo certamente le formiche sul cadavere del filosofo potrebbero trarre qualche vantaggio potrebbero mangiarselo piano piano ok ma sicuramente non potrebbero avere accesso a quello che è il vero valore di quel filosofo e quel valore sta su un livello cognitivo che le formiche a quelle formiche non possono accedere per quanto si sentano intelligenti potranno soltanto cibarsi del filosofo ne troverà troveranno un vantaggio ma non è quello che poi in realtà i livelli superiori potrebbero permettere loro questa metafora è il motivo per cui io ho aderito all'emergentismo anche nell'ambito della della descrizione di che cos'è la mente cosa è la coscienza ed è ancora oggi il sistema che mi convince di più sempre presupponendo che mi convince all'interno di un livello che è la mia zona di comfort e a cui devo aderire più o meno fideisticamente sperando di non cadere mai troppo nel fondamentalismo io nel severinismo ho sempre visto una perdonami traccotanza e la traccotanza delle formiche che presuppongono che il filosofo sia solo roba da mangiare e per me questo è un problema capisci tanta carne al fuoco è perché tantissima qua ci ci abbiamo noi altro che le formiche ci abbiamo noi di questa quantità di di questioni da sviluppare ma allora intanto appunto mantenendo la coerenza all'interno del tuo discorso allora devi comunque mantenere aperta la possibilità che quella dimensione nella quale tu ritieni ci troviamo possa essere un abbaglio come interpretazione che dunque assolutamente livello eccedente potrebbe ribaltare o comunque stravolgere quelle premesse sempre ecco allora l'idea che noi siamo tra virgolette riprendendo l'esempio del romanzo che hai citato delle formiche che si vogliono cibare del ecco di un filosofo quindi che vogliono giungere a una comprensione che sta a un livello ulteriore rispetto alle loro possibilità presuppone che sia vero che noi siamo appunto degli individui che stanno esperendo il mondo attraverso una mente non presuppone che sia un'ipotesi quella struttura di pensiero ma che sia un'evidenza sì io credo che c'è nel senso l'idea che noi tutto quello di cui facciamo esperienza lo facciamo attraverso il sistema della nostra mente intendo nel senso ampio però è cioè nel senso anche attraverso i nostri nervi mica soltanto attraverso i nostri concetti cioè l'esistenza antonio damasi ok scusami mi sono sparito fermo fermo lì fermo un problema con la batteria della videocamera un attimo solo è sì sì ok ecco questo questo evento che adesso è apparso no il disapparire poi riapparire dell'immagine potrebbe forzare l'idea che noi ci troviamo in una realtà fisica dove la tecnica ha permesso il collegamento dell'immagine con dei dispositivi e però no non è evidente perché potremmo invece trovarci in una realtà che intende simulare alla perfezione l'idea di un mondo fisico e questo avrebbe un motivo cioè addirittura avesse ragione severino sarebbe una necessità che il mondo debba proprio rappresentare l'idea opposta di quel che sarebbe perché io ho ragionato poi sulla sua filosofia per capire io l'ho messa a confronto con le massime obiezioni ho cercato sia le obiezioni degli accademici accademici non tutte ma quelle che sono riuscito a studiare le ho diciamo le ho provato a discuterle nelle nelle dirette che ho fatto mi sono con chiunque fosse interessato approfitto anche nel caso ci fossero degli spettatori disponibili e dei dibattiti se volessero partecipare al mio canale sono tutti benvenuti ecco mi sono reso conto che avesse ragione severino sarebbe stato proprio necessario l'apparire di questo scenario chiamiamolo così cioè di questa pellicola di fotogrammi metafora chiaramente non sono fotogrammi questa serie di determinazioni che a noi appaiono come un mondo esterno eccetera era necessità che apparisse è così perché avesse ragione lui scusa il mio essere prolisso era una necessità che apparisse prima l'errore e poi la verità cioè doveva prima apparire uno scenario massimamente opposto alla verità che invece tutto sarebbe unitario eterno e non fisico perché fosse tutto eternisticamente strutturato come da lui proposto o come anche affermano le altre forme di eternismo perché poi ci sono anche altre concezioni eternistiche il movimento non sarebbe possibile perché il movimento presupporrebbe la possibilità che un oggetto si trovi in un solo spazio tempo e che da lì si muova appunto in un'evoluzione spazio temporale ma se la realtà fosse strutturata in blocchi temporali tale per cui ogni configurazione è uno spazio tempo ogni oggetto sarebbe una molteplicità di configurazioni che non si muoverebbero mai da dove si trovano cioè il movimento sarebbe in realtà l'apparire di una successione di diversi stadi mutabili ora è chiaro che fermandoci solo a questo tenderemo comunque ad escludere la possibilità che noi ci troviamo in una struttura di fotogrammi eterni perché ci sembra comunque intuitivamente molto strano perché mai dovrebbe la realtà essere strutturata in modo da ingannarci fino a questo punto per adesso però ritorniamo sempre alla stessa questione di prima se da un punto di vista strutturale di questi argomenti c'è una premessa base l'essere è e il non essere non è e da quella premessa base adottata anche dal divenire in tutte le sue forme segue la negazione stessa del divenire e allora vuol dire che quella concezione lì che sembra quella più intuitiva non può essere vero allora sì no io questa cosa l'ho capita mi è molto chiara la struttura di pensiero di quello che dici c'è un solo problema Angelo che quando tu hai preso l'esempio della videocamera che si stacca e quindi la necessità dell'errore poi della io ti dico il pensiero di Severino e il ragionamento che tu hai fatto è per questo che io lo considero molto più vicino alla poesia che non ad altro perché è una perfetta costruzione che però poi appena vai e devi costruire un luogo del genere perché noi i Cogito Studios li abbiamo proprio costruiti capisci che non non ne hai bisogno cioè nel senso io quando quando leggo Severino quando leggo gli idealisti Berkeley con Berkeley quando l'ho studiato all'università avevo la massima esperienza di questa idea era il che me ne faccio e lo so che posso sembrare il pragmatico rompipalle che in realtà materialista senza cuore no no ma sto scherzando però il punto essenziale è proprio quella cosa lì visto che io vado a valutare i pensieri filosofici anche sulle conseguenze che portano io ti dico la costruzione severiniana è una costruzione poetica fantastica ma appena metti il naso fuori dalle sue pagine quando cominci a mettere le mani in pasta capisci che è una costruzione intellettuale che ha il suo valore che ha portato via un'intera vita e Severino credo fosse una mente assolutamente importante eccelsa però porca miseria io ti dico quando mi sono messo a mettere su questi pannelli queste pareti queste attrezzature ti dico porca miseria se ho bisogno degli ingegneri dei cavi dei collegamenti della bolletta del tecnico di forza lavoro e di tutte queste cose qua che volenti o nolenti non se ne fanno nulla dell'idea che tutto questo sia una proiezione mentale e io posso scusa no ci tengo no no volevo dire no no non sarebbe una proiezione mentale qua è importante richiamarlo questa filosofia non è idealistica ha delle componenti idealistiche ma supera di gran lunga la dicotomia materialismo idealismo non è che si stia negando che esista un rapporto di connessioni necessarie tra ogni evento della realtà ogni aspetto dell'esistenza quindi anche a livello della tecnologia che le varie parti che compongono dei dispositivi delle connessioni delle strutture siano conformi a certe logiche per carità ma semplicemente avesse ragione severino questa struttura non negata e non ridotta a fantasia in alcun modo sarebbe tale perché l'intera realtà che a noi sta apparendo è come se fosse una storia coscienziale già originariamente ed eternamente disposta in quel modo questo non toglierebbe un carattere di realtà e di necessità a tutta la trama della nostra esistenza e alla sua infinita complessità che io non mi sconosco perché quando ho provato anche solo ad approfondire io ho fatto il liceo scientifico e in seguito mi sono appassionato di un po' di meccanica quantistica di astrofisica quando ho provato un po' a approfondire a livello almeno divulgativo questioni come i buchi neri la gravità che a tuttora non si riesce a giustificare diciamo nel rapporto che c'è tra la fisica classica e la fisica subatomica e il rapporto mente-cervello mi sono reso conto della complessità abnorme di questi aspetti cioè c'è una complessità di relazioni di dinamiche infinita ma questo questa complessità non è misconosciuta questo ci terrei a dire in questo tipo di strutture neppure nell'idealismo di Berkeley che non mi interessa diciamo più trattare perché ormai lo ritengo superato lì c'era una mente infinita che lui vabbè da cristiano diciamo riteneva fosse Dio e quella è una cosa che ho sempre criticato perché nel suo impianto teoretico non aveva dimostrato questo passaggio aveva al massimo giustificato l'esistenza di una mente infinita ma non che fosse il Dio cristiano e che quella mente infinita fungesse da realtà quindi ci fosse una forma di realismo e che la realtà non fosse una proiezione arbitraria soggettiva della mente la filosofia di Severino toglie completamente qualunque forma di arbitrarietà da questo punto di vista cioè la realtà non è in alcun modo creata da noi con la mente ci mancherebbe altro noi anzi noi sarebbero una parte della realtà che si autosperimenta sarebbero l'auto apparire di una parte della realtà ci ho detto ci ho detto la questione è sempre diciamo relativa alla gerarchia delle premesse però che filosoficamente risulta imprescindibile capito quindi tu comunque volente o non volente hai spostato il piano da una questione veritativa a quella pragmatica un po un po alla Richard Horty perché io posso io posso posso ammettere tranquillamente che se dovessi ragionare su un piano puramente logico le premesse veritative di Severino sono superiori alle premesse pragmatiche di Peirce ma non ho nessun problema a dirtelo questo e il mio problema è il legame che queste premesse hanno con la realtà e con l'esperienza cioè io ribadisco per me io vivo la filosofia come un sapere molto pratico molto pratico che ti fornisce strumenti per migliorare nettamente le tue relazioni il lavoro l'impatto che hai sulla realtà la consapevolezza con cui senti certe cose e via dicendo io ho la consapevolezza del fatto che se dovessi ragionare su un piano puramente logico fra Peirce Rorty Foucault e Severino non c'è non c'è partita non c'è partita non c'è partita perché in realtà di nuovo la costruzione intellettuale severiniana è perfettamente coerente è coerente è assolutamente funzionale punto ma è di nuovo il mio problema è che io quando leggo Severino lo leggo come leggo Howl di Allen Ginsberg lo leggo come leggo le poesie di Pessoa e può essere le trago un grande giovamento assolutamente ripeto io ce li ho i suoi libri no non qua ce li ho a casa e credo che assolutamente siano delle bellissime letture il mio problema è che la filosofia severiniana almeno a me poi magari a te è diverso però non ha fornito mai mai nessun tipo di strumento per mettere in discussione in modo utile e funzionale il modo con cui mi relaziono al mondo stando a Severino cioè se io dovessi usare la filosofia di Severino se io dovessi incarnare la sua filosofia non saprei come applicarla alla realtà per me questo è un limite enorme di una filosofia guarda è ragione perché in effetti lui ha iniziato a tracciare un percorso potremmo dire cioè lui ha inaugurato una nuova filosofia inedita che in effetti rimasta a quello stadio hai perfettamente ragione secondo me su questo cioè sembra non avere proprio alcuna attinenza con la realtà con la realtà che ci riguarda diciamo in carne e ossa e in realtà secondo me invece approfondendola si possono trarre delle conseguenze delle comprensioni utili anche per dare un senso per comprendere meglio la nostra stessa esperienza del mondo scusa se insisto però sempre sul piano della struttura logica vedi la sua attinenza con la realtà almeno da un punto di vista diciamo sempre strutturale e logico sta nel fatto che anche nella concezione opposta quella chiamiamola del divenire tutte quelle non severiniane sarebbero aderenti a una forma di divenire ecco se non fosse vero che ogni aspetto dell'esistenza è ciò che è nessuna di quelle forme potrebbe essere vera comunque cioè se la premessa base del discorso di Severino fosse falsa premessa da cui Severino ha dedotto le conseguenze termistiche allora comunque le altre premesse le altre filosofie sarebbero e le altre visioni del mondo sarebbero comunque false perché sono tutte basate su quella premessa solo che non la rispettano a differenza della filosofia di Severino quindi il problema è che se quella premessa è quella fondativa di tutte le altre anche fondativa è un problema perché non è un fondamento come si intende classicamente cioè qualcosa che precede tutte le altre premesse e basta ma è una specie di struttura fondativa autodeterminata che contiene già in sé attraverso una struttura argomentativa che Severino riprende dall'elencos aristotelico la sua verità che viene mostrata Riccardo per via elencrica cioè in modo non autoreferenziale questa è la cosa che mi ha mi ha colpito tantissimo della sua filosofia la non autoreferenzialità cioè lui si è confrontato con tutta la filosofia infatti lui riprende in particolare poi Nietzsche Heidegger come maggiori interpreti del nichilismo io ritengo Nietzsche il più grande interpreto del nichilismo cioè è il filosofo che l'ha portato alla sua forma di coerenza massima come l'ha espresso Nietzsche il divenire secondo me nessun altro lo ha lo ha avuto così chiaro a mente cosa comportasse quella visione nichilista della realtà allora la non autoreferenzialità sta proprio nel fatto che quella premessa lì l'essere è il non essere non è ogni aspetto è se stesso e non altro porta la sua filosofia ad avere ragione rispetto alle altre in modo non autoreferenziale non è che è una filosofia chiusa in sé e le altre risultano indipendenti e ognuna per fatti i suoi e la filosofia di Severino quindi è astrusa e le altre invece sono il rapporto concreto alla realtà e no anche la filosofia di Severino è il rapporto almeno da questo punto di vista con la realtà che ci riguarda perché appunto con quella premessa è agganciata completamente a tutti gli aspetti dell'esistenza fosse fassa quella noi non potremmo neanche avere un'esperienza perché la nostra stessa esperienza allora sarebbe a quel punto equivalente al nulla che non c'è e a qualunque altra cosa quindi sarebbe tutto indeterminato tutto sovrapposto allora si tratta di stabilire innanzitutto se le altre visioni del mondo sono al di fuori del discorso di Severino prima di pensare se il discorso di Severino è conveniente utile e cosa ce ne possiamo fare secondo il mio invito sarebbe proprio di fare questo io lo dico perché a parte che mi affascina la struttura logica del suo discorso non tanto le conseguenze pure incredibili ma è la struttura che mi ha colpito e che io voglio capire se è vero perché se ha ragione davvero Severino e io per questo cerco persone intelligenti preparate con cui discutere di questi temi se la sua filosofia fosse giusta ma guarda che cambia il senso della vita cioè si reinterpreta tutto a 360 gradi quasi tutto Angelo di nuovo io faccio il ragionamento pragmatico e ti chiedo in maniera molto onesta ok che cambiamenti ha portato alla tua esistenza la filosofia di Severino ovviamente questa è una domanda a cui puoi rispondere soltanto tu ok e se io mi fossi fermato prendiamo un esempio visto che vedo che in chat qualcuno dice che Severino fa la stessa cosa di Spinoza che io amo molto certo che io amo Spinoza ma per fortuna non mi sono fermato al solo pensiero di Spinoza per quanto lui avesse l'idea di aver trovato delle verità assolute ragazzi l'etica more geometrico è un'opera epocale ma poi Spinoza si sbagliava e io posso persino pensare ancora posso argomentarti il perché Spinoza potrebbe aver ragione ma per fortuna a un certo punto mi sono reso conto che Spinoza come qualsiasi pensiero che vuole essere autoconclusivo e perfettamente coerente non puoi applicarlo alla vita perché finisci per girare in tondo Angelo Severino è un bellissimo una bellissima costruzione che gira in tondo e invece il riuscire a comprendere che qualsiasi criterio veritativo sarà comunque limitato al fatto che non sappiamo granché di quello che sta al di fuori di noi e neanche di quello che sta al di dentro di noi significa comprendere che io potrei anche pensare che in un ambito della mia vita Severino possa anche funzionare però poi in realtà la filosofia è limitata proprio ai nostri stessi limiti perché la filosofia non sta a fondamento di quello che siamo è quello che siamo che dà forma alla nostra filosofia e Severino è un perfetto modo per girare in tondo affascinante poetico bellissimo come lo è Spinoza come lo è Hegel sono tantissimi gli autori che dici ah perfetto se prendo lui e lui ha capito tutto ha perfettamente conchiuso il ragionamento parto dai suoi presupposti e lui conclude e i presupposti sono dimostrati il problema è che la vita umana poi è diversa e che bisogna uscire dai Severino dagli Hegel dagli Spinoza e bisogna dire ok mi è piaciuto mi ha dato tanto soggettivamente ma poi devo andare a collegare i cavi a mettere sulle pareti a uscire in una realtà che anche se presuppongo essere eterna fatta di momenti che sono in sé per sé e via dicendo tutto questo ma poi in realtà ha un impatto totalmente diverso rispetto a come la mia mente si è rapportata a certe idee Severino è sulla pagina ed è bellissimo una bellissima pagina ma è sulla pagina e tutto il resto secondo me sta lì al di fuori ad attendere che uno esca dal circolo vizioso in cui si trova e devo dire che io in Severino ho sempre visto questo circolo vizioso per me il problema è quello di voler far sì che un pensiero sia completamente autocoerente però il problema è pensare che esista un modo per salvarci dal fatto che un sacco della nostra esperienza ha a che fare con il nulla il fatto è che gran parte delle cose che hai vissuto sono dimenticate obliate totalmente trasfigurate e che quel poco che ricordi e quel poco che ha significato ce l'ha perché tu gliel'hai dato è perché sei partito da presupposti che hai scelto di nuovo per un fatto di fede esattamente come i miei ma noi siamo parte integrante di una storia che è rotta e che non può essere assolutamente coerente e per me questo è dimostrato dalla vita dall'esistenza e lo sforzo di Severino e il tuo tentativo di divulgare Severino e ragionarci che è lodevole e di nuovo titanico per me denota il timore di accorgerci del fatto che con tutto questo sforzo alla fine del mondo e di noi stessi non ci abbiamo capito granché ed è uno sforzo che contraddice quel metodo scientifico e sapere scientifico che in realtà parte sempre dall'idea che qualsiasi sia il tuo criterio pragmatico veritativo in realtà forse ti sbagli io lo dico potrei svegliarmi un giorno e dire cazzo c'ha perfettamente ragione Severino antimaterialista mi sono sbagliato io lo presuppongo questo ma questo presupposto è ciò che fonda anche il mio rigettare di primo acchito qualsiasi pensiero che voglia descriversi come autoconclusivo per me il pensiero non può essere autoconclusivo perché è il frutto di un'evoluzione ed è uno strumento evolutivo che si è sviluppato all'interno di un contesto che non ha a che fare con il tutto ha a che fare con il poco che siamo e siamo tanto e io credo che la mia autostima e l'autostima che dovremmo avere di creature biologiche ben determinate derivi dal fatto di dire cacchio per quanto siamo erronei spesso rotti incompiuti abbiamo degli strumenti che sono incredibili che ci hanno permesso persino di produrre la poesia di Pessoa o quella di Severino e di questo dobbiamo avere grande stima ma la stima poi deve essere sempre un cavolo quanto c'è ancora da fare io per quanto tu forse hai il timore adesso no ti attribuisco il timore magari non è timore di scoprire che le cose sono incompiute io cacchio Angelo ho il timore di scoprire di aver compiuto tutto di avere qualcosa che mi permette di dire ah ok le cose stanno così mamma mia sarebbe una roba una roba terribile per me questo per me è il punto essenziale e quindi uscire da Severino è ciò che Severino dovrebbe darci come strumento utile non per rifiutarlo come io con Spinoza non è che io uscito da Spinoza l'ho rifiutato cavolo io leggo ancora Spinoza ed è un autore ci faccio anche lo spettacolo a teatro è meraviglioso mi riempie di gioia e di bellezza e di strumenti ma grazie al cielo Spinoza mi ha fatto capire a un certo punto che dovevo passare oltre passiamo oltre anche Severino perché altrimenti mamma mia che condanna quella di avere qualcuno che ha veramente capito tutto è una condanna quella lì è come per un appassionato di filosofia vuol dire aver chiuso i giochi da una parte se non che appunto la sua filosofia è appunto tutt'altro che chiusa cioè lui se mai ha chiuso un percorso ma ne ha inaugurato un altro e io sto cercando di portarlo avanti perché sto cercando di portare adesso come stanno facendo anche a alcuni suoi allievi la sua filosofia anche in alcune discipline scientifiche in alcuni settori per vederne le implicazioni cioè come rileggere vari eventi e dinamiche della vita attraverso quel tipo di di prospettiva trasversale questa è una cosa che pur dovrebbe risultare rilevante il fatto che la sua filosofia sia un punto di vista inedito che non si è mai avuto prima quindi comunque è una visuale che ti permette di rivedere tutto secondo un'altra angolazione io quando ho studiato alcune sue opere come la cosiddetta la gloria oltrepassare opere in cui si parla degli esiti della nostra vita cioè cosa dovrebbe essere il nostro percorso dopo questa vita io ho rimpianto di aver studiato ho quasi maledetto di aver studiato Severino perché da una parte mi rendevo conto che quella struttura argomentativa fosse inoppugnabile perché era il terreno base di tutte le altre cioè rinnegare quella sarebbe voluto dire rinnegare anche tutte le altre il che è impossibile perché non è possibile che tutte le innumerevoli prospettazioni siano tutte tutte false compresa la premessa di base di cui si è parlato e allora mi sono accorto che quelli quei certi esiti mi erano troppo grandi per la mia accettazione però in questo sono stato stoico secondo me non è che siccome non mi piaceva più quel tipo di esito e non mi piaceva minimamente l'idea di essere determinato non avere un libero arbitrio per come lo intendiamo perché l'eternismo suo implica che noi non possiamo veramente cambiare le cose perché tutto è già eternamente ciò che è in realtà Riccardo la libertà nell'ottica severiniana io la potrei intendere in un altro modo cioè essere sempre di più se stessi ma questa è una discussione che ci porterebbe troppo lontano e che magari se un giorno ci fosse l'occasione per discuterne ancora mi piacerebbe assolutamente ma infatti guarda su questo invece non c'è io quando ho detto poesia nel senso per me Spinoza ma anche tanti altri autori sono stati un elemento fondamentale per costruirmi una mia confidenza con la mia interiorità cioè se mi dici che il valore di Severino è quello di darti una struttura che sia filosofica poetica letteraria per dire ok adesso ho capito meglio come sono fatto mamma mia ma tutta la vita ma tutta la vita ma leggete guardate film cinema l'arte tutto ciò che nutre l'interiorità è fondamentale però di nuovo e poi qui chiudiamo perché io purtroppo devo andare il punto essenziale è che un lato è il nutrimento dell'interiorità e io sono d'accordo sul fatto che sono necessario ho parlato di Spinoza potrei fare altri mille esempi che mi hanno dato tanto di poesia musica e via dicendo ci mancherebbe un altro è restare a girare in tondo dicendo ok la realtà è questa di nuovo la mia interiorità non è il mondo e ciò che nutre la mia interiorità magari mi serve per slanciarmi verso il mondo in modo migliore ma non deve essere la mia interiorità che si estende agli orizzonti perché questo è ciò che io temo molto sono gli orizzonti che devono darmi ulteriori spunti per la mia interiorità questo è fondamentale però se poi invece mi dice io sono d'accordissimo e ci mancherebbe poi di nuovo io credo che Severino sia stato uno dei migliori scrittori cioè di filosofia è bello da leggere è bello è poetico quindi non c'è dubbio io però quando ci si convince che tutto sia spiegabile io ci vedo un grande problema tutto lì però auguro a tutti i severiniani di superare Severino purtroppo io conosco tanti severiniani che non l'hanno mai superato ok invece superatelo ragazzi c'è vita fuori da Severino c'è vita fuori da Severino senza volerlo nemmai ecco guarda dico solo questo no ma come dicevo Severino non ha preteso di spiegare tutto solo un tratto essenziale sì della realtà ma ha lasciato aperto un orizzonte infinito di approfondimenti da sviluppare questo spero che sia chiaro ecco che si chiedisca certo 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 e poi comunque caro Riccardo c'è anche la pretesa implicita da parte della tua visione di essere comunque nella verità non è che no no davvero davvero guarda che quello in realtà no davvero questo è ciò che mi ha lasciato cioè nel senso non la verità assoluta io sono veramente aperto cioè se domani mi arriva mi arriva l'evidenza che sia interiore o esteriore io so quanto sia facile convertirsi a un altro pensiero quindi assolutamente no il punto essenziale è essere sempre consapevole di quanto sia cangiante l'animo umano e quindi rendersi conto che tu potresti veramente considerare domani qualcosa che era impensabile assolutamente vero partire da questa prudenza mi permette di essere molto cauto nel valutare le idee infatti le idee che ho espresso questa sera le ho sviluppate con grande cautela negli anni non è una cosa di cui ho detto ah ci credo e basta ma assolutamente no assolutamente no per quanto poi io sia una persona accorata io ho questo carattere molto esuberante mi piace sostenerle le mie idee perché ho delle argomentazioni per sostenerle ma assolutamente non credo di avere in me niente di assolutamente vero se non la mia interiorità che io non posso mostrarti quindi traspare qualcosa comunque e ti posso dire esatto e ti posso dire allora siccome anche io ho fatto questo lavoro che hai fatto tu nel ponderare le idee che hai maturato con dei confronti sia diretti con gli autori con i libri di Severino sia con tutti gli altri filosofi io ho studiato Severino come ultimo filosofo sì prima avevo studiato tutto il resto della storia della filosofia riconosco nel tuo atteggiamento lo stesso che mi ha portato a maturare certi giudizi quindi riconosco perfettamente lo sforzo intellettuale che ci hai messo e lo apprezzo sei una delle persone che sicuramente in rete mostra questa autenticità questa capacità di approfondire di approfondire in modo originale delle questioni perché poi la filosofia tra le altre cose non è tanto un riguardare dei temi specifici ma come li si affronta come li si affronta e in te riconosco quella originalità infatti un video qualche video che avevo seguito dei tuoi mi aveva colpito per il concetto di autostima l'autostima e qui non ti voglio trattenere troppo se no ecco si fa tardi da come l'hai descritta lo sai che non ti spaventare ma è molto vicina al concetto di presenza al concetto di presenza di alcune tradizioni mistiche soprattutto orientali ne sono consapevole certo la lettura dei veda è uno dei punti che mi ha comunque ispirato un certo tipo di visione quindi sì sì ecco quella è notevole ed è anche molto vicina al cerchio finito del destino cioè a quello che noi saremmo secondo la filosofia di Severino ma io infatti sono un ateo molto appassionato di spiritualità cioè nel senso io ed è di nuovo in virtù di quell'ignoranza cioè nel senso io sono un ateo completamente ignorante su quello che sta al di fuori delle mie poche conoscenze agnostico non sono agnostico perché l'agnostico in realtà se ne frega io dico semplicemente non sento il bisogno attuale dell'ipotesi di Dio e quindi questo è ateismo ok guarda mi permetto di dire tu vuoi capire l'essere umano fino in fondo ti interessa e io approvo questo cioè anche a me interessa capire gli aspetti della vita concreta non è che li rinneghi non è che mi mi sia interessato di Severino idealismo eccetera perché rinneghi l'importanza degli aspetti concreti della nostra vita ma perché ho pensato che potesse farceli capire meglio questi aspetti qui quindi la visione di Severino io spero almeno di comunicare questo non è una svalutazione della nostra vita diciamo no no sono d'accordo su questo assolutamente o non c'è comunque ecco conflitto tra le due sfere ecco quindi ecco ci tenevo a chiarire questo questo è chiaro questo è chiaro comunque Anderlo io ti ringrazio tanto per la chiacchierata insomma è stato interessante quindi spero spero che sia stato interessante anche per te e per chi ci ha ascoltati certo certo sicuramente avranno apprezzato hanno già apprezzato molti utenti grazie ancora Riccardo spero ci siano altre occasioni in futuro per confiarci andiamo in contatto ci teniamo in contatto e vediamo in futuro di organizzare qualcos'altro ok va bene grazie allora buona serata buona serata a tutti ciao Angelo ciao buona serata ciao Riccardo ciao ciao